All'altra porta! Se io vi slego, tu prometti di aiutarmi? Sarete ben pagati! Hai giudicato male i nostri uomini! Non far lo stesso errore per le donne! C'è un'altra porta qui, senente! Tu! Seguitemi! Ehi! Ma a chi sparano? Il nostro capitano sta tornando dal mercato Ho la sensazione che dovremmo salpare Teniamoci pronti, posto di manovra E muoviti Posto di manovra Alzi, caricate Alzi, uno, fuoco Alzi, due, fuoco Segnalatore, comunica al vascello che spari in una bordata È inutile stare a sparare tutte e due La fortezza ci segnala di sparare noi una bordata, signor Bellus Beh, che cosa aspetti, idiota incurabile? Su, accontentali Sì, signore, arriva subito la bordata Bella bordata, complimenti Capitano, è questo che lei ci porta dal mercato Oh, oh, assegno un alloggio a madame Gella Grazie, capitano Bisogna essere calanti, ragazzi Grazie 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 Grazie